Un minuto e mezzo, un minuto e mezzo Vale, attenta che hai provato la ciroziata Vale, ti ritrovi meglio, attento che ti dico Come on cim'e, tranqui, calma Poggi, vanno in deciso Vanno in scelta Come uno, vanno in scelta Se si riuscìa Se si Ricki le WhatsLogues Per tempo, zutti Ah 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 Una volta, periodo Grazie a tutti, grazie a tutti.